In India almeno 14 morti e 70 feriti nel crollo di una cavalcavia a Calcutta. 150 persone sarebbero rimaste intrappolate quando la struttura è collassata su una strada trafficata, piena di automobili, autobus e risciò a motore. Non è possibile al momento sapere quante persone sono ancora sotto i detriti, ha detto una fonte di polizia. L'esercito è a corso sul posto per aiutare i soccorritori impegnati in una corsa contro il tempo per cercare di salvare vite umane. Ancora ignote le cause del crollo, incidenti di questo genere non sono rari in India, dove nei cantieri sono spesso ignorate le più elementari norme di sicurezza. Iniziati nel 2009 i lavori del cavalcavia hanno subito diversi ritardi, la data di chiusura del cantiere è stata posticipata più volte.